Buonasera, appassionati del Grande Fratello. Oggi abbiamo una notizia bomba che sta scotendo il mondo dei We Out of the Show. Mirko Brunetti rientra al Grande Fratello, una mossa inaspettata a chi promette scintille. Siete pronti a scoprire il ruolo esclusivo dell'ex di Perla e Greta nella casa più spiata d'Italia? Preparatevi, perché il ritorno di Mirko Brunetti potrebbe cambiare tutto. Ricordatevi di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento. Mirko Brunetti, il carismatico ex concorrente di Temptation Island e del Grande Fratello, nonché ex fidanzato delle attuali geffine Perla Vatiero e Greta Rossetti, potrebbe presto rientrare nella casa più spiata d'Italia. Ma attenzione, non come concorrente. A qualche settimana dalla sua uscita, durante la venticinquesima puntata, Mirko potrebbe tornare come ospite speciale. Una mossa che sta già facendo discutere. Il portale Mondo TV 24 ha lanciato l'indiscrezione. Mirko Brunetti tornerà nella casa, ma solo per una settimana, dal 15 al 22 gennaio 2024. Una presenza che promette di essere esplosiva. Soprattutto considerando le relazioni passate con Perla e Greta e le tensioni con Giuseppe Garibaldi. Questa ipotesi nasce da una richiesta esplicita dei fan di Mirko. Dopo la sua uscita dal GF, l'ex di Temptation Island è rimasto un punto focale del reality, con frequenti interventi in quasi tutte le puntate. Nel suo ultimo intervento, Mirko ha attaccato senza mezzi termini Giuseppe Garibaldi, accusandolo di giocare sporco con Perla. E i fan hanno sentito la mancanza di Mirko. Un aereo con il messaggio No Mirko, No GF e Cancelletto Mirko ospite ha sorvolato la casa. Una mossa che sembra aver convinto gli autori a considerare seriamente il suo ritorno. Ma cosa accadrà quando Mirko incontrerà nuovamente Perla e Greta? E soprattutto, come gestirà il confronto con Garibaldi? Rimanete con noi per scoprirlo. Ecco, cari spettatori, l'ultima bomba dal mondo del grande fratello. Mirko Brunetti, l'ex carismatico e controverso, rientra nella casa per una settimana di fuoco. Cosa ne pensate di questo ritorno? Sarà solo un fuoco di paglia o cambierà le dinamiche del gioco? Fatecelo sapere nei commenti. E non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un like per non perdere nessun aggiornamento su questa e altre notizie dal mondo del gossip e dei Yoi Alishow. Ci vediamo nel prossimo video.